Stiamo proseguendo il nostro giro di visita all'interno delle strutture di Lazio ad Isu. Oggi siamo a Via dell'Hollis, la struttura più centrale, quella storica, di fronte alla città universitaria della Sapienza. Abbiamo incontrato i ragazzi, abbiamo visto le loro stanze, abbiamo visto la mensa, abbiamo incontrato i dirigenti e abbiamo cercato in questo modo di capire in che modo intervenire nella modifica della legge di Lazio ad Isu. Una cosa che abbiamo notato parlando con gli studenti è che non c'è contezza che il Consiglio regionale si stia modificando questa legge e credo sia un problema perché come sempre si rischia di fare delle leggi che siano poi lontane dalle reali necessità degli utenti a cui sono destinate. Infatti lo scopo di queste visite potremmo dire anche avvicinare i consiglieri tramite noi alla conoscenza di come si svolge la vita dentro queste strutture e rilevare tutte quelle situazioni che possono essere utili per i nostri consigli e contributi in commissione sul regolamento. Noi pensiamo che non si possano fare leggi e tantomeno dei regolamenti se non ci si rende conto in prima persona con queste visite di che cosa si stia parlando.